I carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio Antonio De Rosa, 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Perquisita la sua abitazione, i militari insieme ai carabinieri del nucleo cinofili di Sarno hanno trovato in un locale in uso a De Rosa una vera e propria serra artigianale, perfettamente organizzata ed efficiente. Sistemi di illuminazione e irrigazione, con cimi e vario materiale per la coltivazione, una tenda per l'essiccazione e una lista affissa al muro contenente il piano di fertilizzazione per la coltivazione delle piante, con tanto di istruzioni per la corretta fioritura. L'invenuta è sequestrate 12 piante di marijuana, 12 fusti di piante già private delle infiorescenze e 64 grammi di marijuana essiccata. Ma i controlli dei militari non sono terminati nella serra. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti ben 53 grammi di marijuana che erano stipati all'interno di una cassetta per la posta, all'interno del condominio dove abita il 33enne. Durante le operazioni militari hanno scoperto anche che De Rosa ed altri cinque nuclei familiari che abitano in altrettanti appartamenti del palazzo avessero un allaccio abusivo alla rete elettrica, sei le persone denunciate per furto di energia elettrica. I carabinieri di Casoria, insieme a personale della società di distribuzione elettrica, hanno quindi constatato che l'uomo con allaccio abusivo non solo alimentasse la sua abitazione ma anche la serra. L'arrestato è stato tradotto a carcere in attesa di giudizio.